Non si può avere informazione e innovazione nel mondo della nail art, della nail design se non si entra nel mondo di Brilbeard. Oggi Brilbeard è una grande realtà, stiamo lavorando molto bene, abbiamo 18 rivenditori ma nel 2017 ci sarà una svolta, una svolta sia dal punto di vista commerciale ma più che altro dal punto di vista formativo. Per me il prodotto è importante, deve essere un prodotto di qualità, certificato, garantito, dove ci sia la sicurezza per quanto riguarda l'utilizzo del prodotto. Ma è altrettanto importante fornire tutte le informazioni necessarie perché il prodotto sia utilizzato al meglio. E quest'anno noi faremo qualcosa di diverso che non è mai stato fatto, proponendo corsi online attraverso una piattaforma webinar. È ovvio che qualunque soluzione online non potrà mai sostituire una professionista che ti segue da vicino e personalmente, così come i corsi che noi facciamo attraverso i nostri rivenditori. Perciò questi rimarranno, anzi saranno sempre più rafforzati attraverso le nuove master che proprio in questi giorni prenderanno l'avvio. La parte di online serve per supportare adeguatamente tutto quello che viene fatto già con la master. L'online prevede di utilizzare un semplice smartphone per seguire in maniera interattiva, perciò io posso fare delle domande durante la lezione, interattiva una lezione della master. Nel 2017 abbiamo un campus straordinario, noi l'abbiamo nominato campus del cuore. Qualunque professione creativa ha dentro di sé una componente, un ingrediente fondamentale che è la passione. Noi vogliamo aumentare il più possibile questa tendenza. È vicino a Firenze, a Fuccecchio ed è all'interno di un'area verde dove la parte, diciamo così, naturale di noi deve uscire. Sarà un campus molto più tranquillo, è un campus dedicato molto alla tecnica, ai nuovi materiali, ma è un campus che terrà conto della persona e perciò del cuore. Io invito tutti coloro i quali sono interessati al nostro campus che si terrà dal 2 al 9 giugno a richiederci informazioni attraverso il nostro sito www.brillbird.it o sul nostro profilo facebook con il nostro numero verde 898 39 98 Guarda un po' che ti ho portato. È lei, Saraventura. Sono io effettivamente a rappresentare questa azienda, quindi grazie al nostro amministratore delegato Guido Grassi che ha creduto in me. Per quel che concerne la comunicazione, si sa che io sono una brava chiacchierona. Brillbird per quale motivo? Tra tante è una scelta ben precisa. Guarda, i motivi sono, vabbè, a parte l'empatia che ho con questa azienda per le bravissime master, per le bravissime allieve, perché tutte le allieve che passano da un corso Brillbird sicuramente hanno le capacità di fare delle grandi mani a tutte le persone che si affidano poi a loro, e i prodotti e poi le innovazioni, perché sicuramente sono stati proposti dei prodotti che noi abbiamo utilizzato e fatto nostri a livello di moda prima di altri, utilizzandoli al massimo della loro efficacia, come il Miro, le polveri Miro, io credo in quest'anno. Brillbird, sei tu! Brillbird. Grazie per la visione!